Questa giornata è stata organizzata da CISBOL in collaborazione con il Comune di Cremona, assessorato alle politiche giovanili, insieme ad Anpass Cremona, insieme alla Fondazione Sospiro e insieme al Liceo Manini di Cremona. Perché è stata promossa? Perché in questi giorni si celebra la giornata dell'Europa, cioè l'anniversario della Fondazione della Comunità Europea. Come CISBOL insieme agli enti che ho citato prima siamo impegnati nel promuovere lo SVE. Cos'è lo SVE? È il Servizio Volontario Europeo, ovvero un'esperienza che coinvolge giovani di tutta Europa che si muovono per fare volontariato in altri paesi. Abbiamo voluto portare questa esperienza, questa giornata a Cremona perché vogliamo fare in modo che questa possa essere anche una testimonianza per tutti quei giovani che vogliono vicinarsi a questa esperienza. Io sono Sara, io sono Cascia, siamo del Centro del Volontariato di Cremona e si occupiamo del Servizio Volontario Europeo, che è un progetto per i giovani dai 18 ai 30 anni per risolgere un periodo di volontariato all'estero dai 2 mesi a 1 anno. Io ho fatto il mio progetto di servizio volontariato europeo in Italia, 5 anni fa sono venuta qua a Chiari, in provincia di Brescia, sono rimasta per 10 mesi e facevo volontariato al Centro Giovanile, lavoravo come educatrice. È stata bellissima esperienza da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista professionale e anche personale, per crescere tantissimo, conoscere la gente nuova e conoscere la cultura, perché è bellissimo. Anche io svolto lo Sve in Irlanda per 6 mesi in un progetto comune sociale, anche per me è stata un'esperienza importantissima che consiglio a tutti. Grazie a tutti.